Iniziamo intanto ad annunciare il prossimo personaggio, il prossimo cosplayer che viene direttamente dal mondo Marvel mondo Marvel con uno dei film usciti ultimamente ma lui non fa parte del 2, fa parte dell'1 vediamo se indovinate chi potrebbe mai essere lui è un supereroe, un supereroe però un po' speciale quindi se vi dico il mio nome è non vi sento, il mio nome è bravissimi, lui è scusami, sto che stai presentando Carmine con i group però devo vedere un messaggio, prende solo qua il telefono non penso di dare, ti do fastidio? perfetto, va bene ragazzi me ne devo andare sì sì, bye bye grazie 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 Con che materiale hai fatto? Domanda! Con che materiale è stato fatto? Io sono crudo! Giusto! Grandissimo! Ma è Natale? A presto! A presto! Scusa! Mi sono cadute! No! No! Ringraziamo il Groot! Tu sono un esempio di professionalità, puoi andare? No! A presto! Alberto di Natale, prego!